e niente ragazzi sono queste confezioncine qua che c'è signorina della rete di instagram sottolineiamo che sei senza mascherina perché sei lontano da tutto e da tutti esatto siamo distanziati nel modo corretto un attimino a proposito di un attimino anche per il rispetto del dirugato mister beppe anche i nostri guardi trovo sono mascherati anche loro quello è trovo e questo è uno questo trovo le stevarte e guarda che va si distingue come faccio a distinguerli perché trova un segnetto qua sopra trax una piccola cicatrice che non è caduto e si distingue per quello ogni volta che parlano nelle storie se non vengono mai confusi quindi io sto ben attento a non confonderli ora sì che siamo tranquilli ho svelato il mistero perché molti dicevano i malabox li vedi lì a caso non sono uguali no no e no e sono stavano chiedendo in molti sono diversi sono diversi infatti e niente 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 ragazzi allora shock si sbusta poi c'è qua una cosina la farò vedere l'ho già fatto vedere nelle storie che c'è signorina che cosa signorina che sta andando con una matta sta ragazza cosa succede cosa succede ce lo stavano chiedendo in molto riso da sola va bene sento del sarcasmo eh c'è del sarcasmo nell'aria comunque 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 allora prima di iniziare vi faccio vedere dai vi faccio vedere subito gli album intanto allora c'è l'album quello per collezionare le carte quelle belle c'è questo il nostro album per carte promo dove andremo a completarlo ad archirlo con le nuove carte sword and shield collezione black 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 star non mi veniva black star è incredibile black star sword and shield voilà questa è la parte italica la parte inglese che dobbiamo ancora farla signori qua siamo l'abbiamo abbandonata I don't understand sorry I don't remember I don't remember e comunque comunque album car collection ma attenzione c'è una novità che questa non potete farvela mancare perché questa l'altro giorno l'ho anticipata nelle storie è l'album per collezionare i dpcm va anche bene per le autorichiarazioni attenzione anche le autorichiarazioni questa è l'ultima sono quelle originali ma ok perché le autorichiarazioni sai che anche lì sono uscite diverse versioni esatto sono tante versioni mi raccomando conservatele bene prima che poi si rovinano non valgono più mi raccomando poi domenica ci sarà penso un nuovo decreto ormai non può esserci domenica senza decreto ormai la domenica non si aspetta più per la partita o per il formula 1 per il decreto no per conte io aspetto per il decreto se no non dormo tranquillo non è tranquillo la domenica vorrei scrivermi alle pagine delle bimbe di conte così lo seguo bene eh sì del resto non lo so vuoi seguire cosa fa Ronaldo non puoi in quarantena vuoi seguire cosa fa la Pellegrini in quarantena vuoi seguire cosa fa Valentino Rossi in quarantena sono tutti in quarantena che si seguo i conti ci seguo i conti ci sono i conti è incredibile beh per sempre Beppe ma basta stupidate siamo qua per sbustare per aprirci le collezioni Champions Pad di Pokemon cheer chest cosa c'erano chiedevano? cosa chiedero? quello del 26 marzo a Nier Mint eh beh dipende se l'hai conservato bene perché se l'album mi ha bisogno di conservarli bene perché se no poi quello del 26 marzo a Nier Mint ormai è sparato di prezzo anche recuperarlo è difficile li puoi anche far gradare esatto c'è la prima edizione c'è mi mandi in PSA magari di che ne sai grano? autocertificazione di prima edizione shadowless chiaramente quelli autografati vale con di più eh scusa vai da Beppe mi autografi i decreti ma dopo hai con un sacco di soldi eh tra ora tu autografato cioè scusami il Pikachu autografato dell'autore non vale di più si ma è sicuro per fare cose ah se vogliamo che spustare e facciamo un po' di cinema ogni tanto bene vedete allora eccoci qua c'è il McPet ogni tanto abbiamo Churchester and Stow Onside e sbustiamo qua Stow Onside hai scritto così? lo direi che fai qua così? in inglese lo compare ad andare per tutto Sì sì sì, sa dove Vabbè dai, su via, tutti pronti Stiamoci, rucola e sbustiamo Pokémon Champions Pad, Chirchester And Stow Allside Chuck Si sbusta E allora, Chuck si sbusta Queste due confezioni che ho Conservato Gelosamente, non ne abbiamo più Le stavo vendendo, ma mi sono reso conto Ma ne abbiamo ancora sbustarle Le conservate, abbiamo Chirchester and Stow Allside Andiamo a vedercele Signori in regia, quali preferite Facciamo una bella sfidozza Quali Così Cosa scegliete? Gengar and Munch Oppure Lapras and Clossals C'è fermento dietro Chirchester Noi prenderemo la Ciccesta 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 Quella che era? Ciccesta Questa qui Eccola Ciccesta La confezione non mi ricordavo più Allora C'è la pinna, non le vedi? Le pinco Ciccesta Eh bene, sono a posto Andiamo a vedere cosa contengono queste confezioni E poi ci sbustiamo 5 bustine per ogni confezione Qua abbiamo delle promo Black Star Come dicevamo prima La numero 54 La numero 51 Colossal Colossal è lui E Lapras nella confezione number one Con anche tutte le 5 bustine Carta codice E le fantastiche pin Ma che belle Poi La StoneSide Con figata E ragazzi Questa è più Come carte promo Bisogna essere onesti Più bella Ragazzi c'è Machamp E c'è il mitico Lui Il solo Gengar Che bello Che bello Che bello Anche qua le spille Delle palestre Che belle sono queste spille Che figata la Pokémon Che ce le ha fatte tutte Una volta Le spille Delle palestre Si potevano Avere Solo con Partecipando Alla Lega Pokémon Magari poi farò Un post Dedicato a tutte quelle Le spille Di Parecchi anni fa E adesso ci sono Delle confezioni 5 bustine Per ogni confezione Le promo Qua abbiamo la promo Blackstar 53 E 52 52 Gengar E Machamp 53 Bene 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 Qualche domanda? No Tutti i promo Tutti i medicali C'è anche il busta E Regia Boss Partiamo con la carta Con la carta Con la prima bustina O se fai il trick Lancia il telecomo Come? Il trick si fa sempre Come si fa Il trick si fa Non lo sai fa Come non lo so fare Il trick lo so Uno, due, tre Quattro Tracks Trick Attenzione Ander dentro Eccolo L'energia Il Pokéball In che Le carte rimangono Quattro Non è che diventano cinque Attenzione Scrafty Altaria Altaria Beh si parte Belli tranchi Belli funky Non si poteva Sbustare una carta V Alla prima bustina E Sarebbe un po' Eccessivo Magari Alla seconda si Ma alla prima Eh no Grazie Gaetano Ci fa una domanda Come state? Beh bene Grazie Gaetano Grazie per averlo chiesto Stiamo bene Fortunatamente Qua tutto bene Attenzione Attenzione Eccans Antenne Antenne Attenzione Attenzione Siete pronti Siete caldi Siete Grappalot 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 Il Pokéball Che è la grappa Che è la bella Se rimanevi su Grappalot E Siamo parli di belli caldi Belli caldi Ma c'è ancora qualcosa di più Incandescente che ci aspetta Perché Oggi Today is the bay Is the day It's gonna be the day Quello no Attenzione Non ho perso Non ho perso Attenzione Perché questa è il contrario La energia è il contrario Ragazzi La energia è il contrario Perché non ti è uscito il trick È reverse ma non reverse Esatto Esatto Attenzione Pokéball C'è L'Ikanon è il reverso E È gialla È gialla Ancora Altaria Secondo Altaria Una confezione con Altaria Un'altra 5 Altaria Solo Altaria E poi ce l'ho Grappalot Attenzione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 And back E vediamo C'è il Team Miguel Grunt Malamar Perché sei morto Attrument Energia Nick Non va Ekanz Caravagna Soblu Volbex Volbex Professor Non male Vediamo il bordo Il bordo è giallo E ci dice C'è di scotch Yes Va bene Che poteva essere Ancora V Ma Attenzione Attenzione Si cambia confezione Quando cambi la confezione Potrebbe Succedere Che trovi una V Che prima Non abbiamo ancora trovato Da questo lato Del Da questo side Dello Sboosting Attenzione Energia Fuoco Che potrebbe Chiamare Un Pokémon Fuoco Vediamo se Risponde O trovo Occupato Poi Attenzione Buio Niente Occupato E Almeno Non è ancora La taglia Io avanti Sale L'atmosfera Sale Perché Attenzione 1 2 3 4 E vai con Trick Vai con Trick Giulgettone Si va Sharpido Sonia Pears Energia Metallo Vulpix Potion Full Hell Vabbè Quello Machop L'altro Non l'ho detto Perché Non riuscivo a pronunciarlo Attenzione Altaria Ma Basta 3 Altaria 3 Altaria Su 6 bustine E' la più difficile Che trovare Charizard Stia a 150 Altaria 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 come se non ci fosse un domani Ale 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 Io voglio provare a fare il trick normale Non sono proprio capace Sonia Non è che Cioè proprio Non ce la faccio proprio Sì 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 Zizagun Rockruff Full L Gru Bella 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 Rambler Reverse C'è Uuuu E' il Grappolo Grappolo Oddio La schermata è Reverse a sinistra si vedono le stesse carte a specchio a destra quindi aspetta vediamo cosa dobbiamo trovare di lì Altaria Altaria che raddoppiamo vediamo se 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 un codice lo diamo no girano il contrario vabbè girano il telefono e anche per vediamo chi è più veloce a roteare il telefono l'avrei fatto? hai già fatto? chissà vabbè vediamo cosa succede Ulbix full health kakuna energy of fire energy of fire and the buio fire paura non lo so neanche io attenzione che trick ho fatto ma che trick ho fatto come l'ho fatto a farlo come l'ho fatto a farlo incredibile ma non lo sa neanche lui non lo so però è venuto fuori bello cioè a me è piaciuto non so è venuto fuori un bel trick che figata com'è che ho fatto a farlo grazie 1,2,3,4 solo non sono la Kiki sono un'altra allora vediamo 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 questa che busta di qua di quattro ho cercato di inquadrare la tecnica ma comunque non si riesce a capire nonostante le inquadri cioè esatto non si nonostante lo facciamo fatti capire incredibile incredibile l'ho rifatto ma la cosa bella è che mi sono impegnato per rifarlo ma non ho capito come ho fatto ed è al contrario ancora ma l'energia ormai rimane sempre e niente e niente ragazzi nuovo trick devo capire come sono riuscito a farlo ho fatto due volte l'ho fatto ma non ho capito allora 1,2,3,4 e fin qua ci siamo ok poi questa va di qua e questa fa così che figata vado ragazzi il trucco trick nuovo il trucco trick il trucco trick Widow lay on sgraggi tu sai che quando arriva l'energia bacio amp è tempo di saltare forse anti run oh energia buio buon attenzione 100 scotch 100 scotch e niente 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 io ero così ero gasatissimo conservo queste confezioni per un mese date un trick a post il trucco trick per tutti e mi ho trovato Grapp Lotchby Grapp Lurch è Comasco è Grapp Lurch Grapp Lurch il Pokémon Comasco e niente preferisco la grappa e Grapp Lurch non me ne voglio Grapp Lurch però dai ragazzi Grapp Lurch è sempre però un Pokémon della alta parianza così bene 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 grazie a tutti dimmi un codice anche per il trucco dai per il trucco diamogli un codice se no giustamente un po' per uno dai su via diamogli un po' sti codici e niente niente grazie a tutti di seguirci qua su Instagram su Youtube Facebook siamo in negozio vi vedete il 23 e a posto domani siamo aperti però abbiamo delle novità per Natale per Natale quindi guardate il nostro sito per le aperture esattamente esattamente sul nostro sito ci sono tutte le aperture in alto cliccate c'è scritto c'è la pagina dedicata aperture fino al 6 gennaio sono fuori ogni giorno da qua a tre mesi normalmente sperando di ieri era sbagliato e ci eravamo per di Natale grazie a tutti di seguirci numerosi lpbcollecting.it per tutto ciò che vi serve carte singole bustine box confezioni speciali accessoristica abbiamo i top loader la scatola per i top loader lo smart dive volete conservare le vostre carte come boss fatto con questo fantastico Shining Cabotops bello eh ma non è in vendita mi spiace e c'è anche one touch con il relativo piedistallo per esporlo molto bello molto molto bello mi piace un sacco finì bello eh quel questo è da gradare da gradare è un PSA11 questo un bel edello PSA11 ce lo sono io grazie a tutti grazie 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 e niente ci vediamo al prossimo video da boss dalla signorina della regia di Instagram e dal signor Erika è tutto ci vediamo alla prossima ciao col voi ciao ciao ragazzi ciao a tutti